Siamo con Miss Italia 2014, Clarissa Marchese, benvenuta qui a Roma, tu di dove sei? Io sono siciliana. Siamo qui a una manifestazione di beneficenza, se così vuol dire? Assolutamente sì. Quindi per aiutare bambini ammalati di cuore e comunque con cardiopatia. Esatto, quindi siamo qui per un nobile emotivo, ne siamo tutti. Ovviamente. Senti, come procede il tuo anno da Miss Italia? L'anno importante della tua vita? È un anno importantissimo, i primi tre mesi sono stati intensi e molto belli, ricchi di lavoro, di nuove esperienze e questa di questa sera ne è una prova. E dopo immagino il giorno fatidico della nomina di Miss Italia, che è il giorno forse più importante della tua vita, qual è stata un'altra esperienza forte che hai fatto in questi tre mesi? Ce la puoi raccontare? Di lavoro? Sì, io torno da un viaggio fatto negli Stati Uniti, in America prima in Canada, a Montreal e poi a New York, quindi negli Stati Uniti. Sono stata accolta dalla comunità italo-americana e quella è stata decisamente un'esperienza molto bella, perché comunque si capisce quando coinvolgimento ci si è da parte dei nostri connazionali all'estero. È cambiata la tua vita ovviamente, in che cosa in particolare trovi dei cambiamenti? Beh, un po' in tutto. Io ero una studentessa, continuo ad esserlo perché studio logopedia all'Università di Parma, però adesso sono sempre in giro. Miss Italia mi sta dando anche la possibilità di conoscere nuove città, nuovi posti, magari paesi che non avrei mai pensato di poter visitare e che ho avuto la possibilità di conoscere nuova gente, gente veramente magnifica. Carissa, diciamo la tua età per saperla così, per ribadirla, se è giovanissima lo possiamo dire, non è? Ho vent'anni. Vent'anni. E quindi le scuole le stai continuando? Sì, io studio a Parma, quando posso faccio base a Parma. Sicuramente aumenteranno gli iscritti l'anno prossimo. Eh beh, lo spero per loro, è una bellissima facoltà. Ti ringraziamo, complimenti. Grazie mille a voi, arrivederci. Grazie.